Eccoci, buongiorno, buon mercoledì, bentornati alle news sportive firmate la C, tanto da raccontarvi anche oggi partiamo dal calcio, partiamo dalla Lega Pro, perché? Perché c'è da prendere atto di una costante, il mal da trasferta della Vigor Lamezia che in casa viaggia come un treno ma lontano dal Guido Dippolito ha ai noi, insomma ai soprattutto i tifosi bianco-verdi la media retrocessione, partiamo da qui e dopo tutto il resto, via! Una freccia rossa in casa, una lettorina lontano dal proprio stadio, non a mezze misure la Vigor Lamezia di Alessandro Erra, almeno nell'ultimo periodo, già perché la squadra Lamettina si è mostrata completamente all'opposto nelle prime quattro trasferte del torneo. La magia si è interrotta sul campo del Martina Franca, lì dove era arrivata la seconda vittoria consecutiva in trasferta ed il quarto risultato utile di fila. Un ruolino di marcia importante che aveva fruttato ben otto punti, poi lo stop. Il motore versione fuori casa della Vigor si inceppa. La difesa Lamettina, quasi imbattibile, si trasforma in cola a brodo ed arrivano tre K.O. di fila con Messina, Benevento e Cosenza. Sette i gol subiti, gli stessi incassati prima di allora ma in otto partite. Basterebbe questo per capire la trasformazione della compagine bianco-verde, ma c'è di più. Ad una difesa che fa acqua da tutte le parti si aggiunge un attacco quasi sterile. Nelle ultime tre trasferte la Vigor ha infilato solo un gol, quello inutile a Benevento firmato del Sante. Perché si staranno chiedendo i tifosi Lamettini? Per loro fortuna il calendario garantisce un bel po' di tempo per avere una risposta convincente. Domenica infatti la squadra di Erra giocherà al Guido di Ippolito, un fortino inespugnabile ma che servirà a poco se non si cambierà registro in trasferta. Nella finale del servizio avrete notato l'espulsione di Malerba, scontata quindi la squalifica per il giocatore della Vigor. Con l'aiuto della grafica andiamo a vedere però l'interio banco dei provvedimenti del giudice sportivo dopo la tredicesima giornata. E allora Malerba della Vigor, un turno, un turno anche a Maiorano del Catanzaro. Due giornate invece a Rizzo della Regina, Regina che è stata multata anche di 1500 euro. Curioso il motivo, al di là delle bottigliette d'acqua buttate in campo, anche per la mancanza di acqua calda nelle docce degli spogliatoi riservate alla Terna. Arbitrale in Lega Pro è già antivigilia di campionato perché è venerdì sera alle 20.45 il Catanzaro scendere in campo contro il Barletta tra presente e passato. Il presente è rappresentato dal nuovo tecnico Sanderra, il passato dall'ex Alberto Quadri. Il Catanzaro venerdì aprirà la quattordicesima giornata del torneo di terza serie. Alle 20.45 si accenderanno i riflettori al Ceravolo. I giallorossi ospitano il Barletta dell'ex Alberto Quadri, una squadra che sembra aver ripreso coraggio dopo un avvio pauroso. Sette sconfitte nelle prime, 11 gare, 5 debacle in trasferta su 6 match, non lasciano scampo a interpretazioni. Eppure dopo la terza giornata il Barletta era lì con le grandi, con 6 punti guadagnati su 9 disponibili. Poi il crollo è interrotto solo due settimane fa nel derby contro il Martina Franca. I pugliesi sono riduci dal pari contro il Melfi e giungeranno in Calabria con il piglio di chi non ha nulla da perdere, soprattutto lontano da casa, dove non vincono dal lontano 27 aprile scorso. Al Ceravolo mancheranno gli infortunati Biancolino, Branzani e Rizzitelli. Con molta probabilità Mister Sesia schiererà la stessa formazione vista contro i Lucani domenica scorsa. Al Catanzaro l'obbligo di ritornare al successo, davanti al proprio pubblico, in panchina ci sarà Stefano Sanderra. Per lui sarà l'esordio dopo aver preso in mano le revini della squadra. Lasciamo adesso il calcio per dedicarci alla pallavolo. Sfuma alla T-break il successo del Soverato nella terza giornata di Serie A2 femminile. Nel quinto e decisivo set si impone Rovigo. Si interrompe sul più bello la rimonta del volle Soverato nella terza giornata di Serie A2 femminile. Le calabresi cedono al quinto set alla Bengro Vigo. Due sette sotto tono per le ragazze di coach. Chiappa freddo, le catanzaresi pagano a caro prezzo i troppi errori nella prima parte del match, soprattutto a servizio molto meglio nel terzo e quarto parziale quando il Soverato è riuscito a togliere la testa fuori dal guscio dominando i due set. Peccato per l'ultimo e decisivo parziale dove è mancata un po' di fortuna. Ne servirà parecchia domenica prossima quando sempre al Palascoppa sbarcherà la fuoriserie Monza con la quale Soverato ha un conto in sospeso legato ai play-off della scorsa stagione. Anche il basket in questa edizione. Parliamo della viola Reggio Calabria che sbanda ad Imola ed è il secondo K.O. di fila per la squadra nero-arancio. La viola è al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato contro Legnano, un match importante in cui i nero-arancio sono chiamati al pronto riscatto dopo il K.O. di domenica scorsa sul parquet di Imola. Una sconfitta che ha lasciato la mano in bocca al team dello stretto che nel finale era quasi riuscito a completare una grande rimonta. Al pianeta viola la concentrazione è ora tutta rivolta ai prossimi avversari che in classifica hanno gli stessi punti dei nero-arancio e dunque vanno affrontati con estrema attenzione. Ma a tenere banco in casa viola è soprattutto il capitolo Palasport. La storica struttura dotata di oltre 8.000 posti è chiusa da più di due anni dopo l'incidente durante i preparativi per il concerto di Laura Pausini che causò la morte di un operaio. La task force che ormai da mese è al lavoro per sbloccare la nostra vicenda ha svolto una nuova importante riunione tecnica insieme al sindaco Falcomatà, al patron Muscolino, al presidente Branca e all'ingegner Basile Rognetta. Sul tavolo c'è ancora la convocazione della commissione di vigilanza oltre ai vari passaggi di natura burocratica. Al momento tuttavia non è stato stabilito quando la squadra potrà effettivamente rimettere piede nella struttura per i primi allenamenti. Mentre nel frattempo vanno avanti i lavori di manutenzione e pulizia dentro e fuori il palacalafiore. La viola e i suoi tifosi iniziano il countdown in attesa di riappropriarsi del quinto palasport d'Italia.